Abbattere il digital divide ancora fortemente presente in diverse aree industriali, prevedere interventi in relazione alle esigenze prevalenti delle imprese, puntare su una formazione non di aula ma porta a porta, garantire tempi certi e risorse adeguate. E' quanto emerso dall'audizione della seconda commissione consigliare presieduta da Gianfranco Chiacchieroni alla quale sono stati invitati i soggetti interessati al piano telematico 2014-2016. Alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture tecnologiche Stefano Vinti sono intervenuti Federico Fiorucci della Confcommercio, Giorgio Armillei, assessore al comune di Terni, Matteo Brutti di Confindustria e concordando sull'importanza di un documento definito un passaggio epocale e per la quale stesura la giunta regionale ha dato vita ad una adeguata partecipazione. Una importante raccomandazione riguarda la prevista sperimentazione di tecnologie di nuova generazione per le reti di accesso per la quale è importante tenere conto dell'importantissimo tema della selezione di aree sulle quali intervenire in relazione alle esigenze prevalenti delle imprese. Il piano traccia gli investimenti per le infrastrutture previste nel prossimo triennio con un investimento previsto di 28 milioni di euro. Gli obiettivi principali sono il potenziamento della rete pubblica di banda larga e il consolidamento del data center regionale unitario di Terni su cui far convergere i 65 data center della pubblica amministrazione. L'obiettivo è quindi di uniformare gli standard e i livelli di sicurezza con l'abbassamento radicale dei costi di tutti i server.